Il comune di Teramo, dopo le prove fatte nei mesi scorsi, ora è pronto a pedonalizzare il centro città. È come primo passo affidato l'incarico per la sistemazione della segnaletica, sia per le strisce a terra che i cartelli, in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole di accesso alle piazze principali, a Corso San Giorgio e via Capuani. Il divieto di accesso ai mezzi sarà totale, dunque valido 24 ore su 24 per Corso San Giorgio, mentre verrà limitato alla fascia oraria a 15.3 del mattino in via Capuani. Piazza Martiri e Piazza Orsini invece continueranno a funzionare come zona a traffico limitato, con accessi consentiti solo gli autorizzati che avranno a disposizione un ridotto numero di stalli, occupabili per brevi periodi. Noi vogliamo con i fatti rendere questa città la città del pedone e della bici. Della bici a brevissimo ci saranno nuovi sviluppi in parti importanti della città. Del pedone stiamo realmente partendo adesso con la segnaletica orizzontale e verticale per rendere attuabili le aree pedonali urbane già deliberate alcune settimane fa su via Capuani, dove già c'era ma l'abbiamo implementata, e soprattutto su Corso San Giorgio, perché nell'immaginario collettivo forse era un'area pedonale, ma effettivamente è ancora una zia a Tl, quindi sarà proprio pedonale completamente, e in più ci sarà un inasprimento delle condizioni da rispettare sulla zona più importante della città, cioè quello che è attorno alla cattedrale, Piazza Martiri, Piazza Orsini e anche le vie agliecenti, dove ci sarà il divieto di fermata e non più il divieto di sosta in alcune aree, oggi la segnaletica definisce alcune aree, quindi sarà un esprimento per cercare di dare dignità urbana a questi spazi che oggi non hanno pienamente, lo vediamo in alcune ore della città in cui furgoni e anche varie auto imperversano in determinate condizioni. L'attività sicuramente ne benificeranno di queste iniziative, come è successo ovunque, portiamo l'esempio dei commercianti di Via Capuani che 20 anni fa si opponevano a un'area pedonale, oggi invece ci hanno chiesto addirittura di partire dalle 10 di mattina, poi noi abbiamo trovato un compromesso perché anche i residenti bisogna ascoltare. Noi vogliamo mandare un messaggio culturale poi alla città, Teramo, a differenza di alcune città che vediamo attorno a noi, ancora non ha pienamente compreso questo modo di utilizzare questi spazi importanti, le azioni di questa amministrazione vanno in quella direzione, ripeto, sia sotto l'aspetto pedonale che ciclabile, di cui avremo delle novità importanti nelle prossime settimane.